SENTO I TAMBURI No, sono scudi. Voi! Siete stati convocati qui per vendicare il massacro dei vichinghi! Portatemi l'Inghilterra. Questa sangue non è il mio sangue. È il nostro sangue. SENTO I TAMBURI Appartiene al vichinghi! SENTO I TAMBURI Orvi è il nostro canale. Ah, questa passiva ha la propria. T marketersi sono stati lievitati.